È giusto che un partito si ritrovi dopo le vacanze estive per confrontarsi e per fare una cena, quindi io non entro nel merito delle cene di Fratelli d'Italia. Dopodiché oggi c'è un vertice di centrodestra dove al centro del dibattito e sul tavolo ci saranno i temi della manovra e noi come Lega riproporremo il tema del taglio del cuno fiscale e il tema delle pensioni che è quota 41. È una proposta che tra l'altro abbiamo condiviso nel programma di centrodestra con gli altri partiti. Dopodiché ci sono quattro anni per sistemare, migliorare e aumentare le pensioni ed è chiaramente un percorso politico di legislatura. Capisco che la coperta è corta e ci sono poche risorse, però secondo me i due temi centrali sono il tema del lavoro e delle pensioni. Nel tema delle pensioni c'è un dibattito su alzare le pensioni minime o quota 41. Secondo me l'inalzamento delle pensioni minime porterebbe a uno squilibrio tra chi ha lavorato di più e tra chi ha lavorato di meno. Quota 41 invece è un prevedimento più trasversale che andrebbe chiaramente a favorire il pensionamento di quelle persone che hanno lavorato per 41 anni e un ricambio generazionale all'interno del mondo del lavoro. La sentenza della Corte dei Conti tedesca che ha bacchettato il governo si rischia di tornare un rigore rispetto all'approvazione del nuovo patto di stabilità. Avete paura di questo? L'Europa continua a parlare di rigore, però usando l'Italia poi sul tema dell'immigrazione e non aiutando mai l'Italia sulle emergenze che ha. Noi cercheremo di fare una manovra rispettando sicuramente i parametri dell'europeo, chiedendo un po' più di deficit come hanno fatto gli scorsi governi, perché chiaramente le risorse a disposizione sono poche, dopodiché l'atteggiamento dell'Europa è un atteggiamento nei confronti di questo governo che non è molto amichevole, però vediamo nei prossimi mesi cosa succederà.